Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV, ancora disagi dovuti alla maltempo, in particolare alla neve in provincia di Arezzo. La situazione più critica resta quella di Badia Tedalda. Siamo a Badia Tedalda, comune dell'Alta Valtiberina. Come vedete la straordinaria nevicata che è caduta nelle scorse ore ha letteralmente sormerso le auto, gli ingressi delle abitazioni, degli esercizi commerciali. Dopo alcune ore e grazie agli interventi del comune, di una squadra speciale della protezione civile, ma insomma di tutto il sistema di protezione civile, la situazione sta tornando piano piano alla normalità. Le strade sono state aperte, quindi sono percorribili, ma rimangono alcune importanti criticità, come ad esempio tre frazioni ancora senza corrente elettrica. Allora, il collegamento telefonico è una novità di stamattina, perché fino a ieri andava. Quindi il team non funziona quasi da nessuna parte, ma siamo in contatto con la prefettura e con la protezione civile provinciale, e quindi sono continuamente in azione. Però le zone dove c'è l'interruzione di corrente dell'energia elettrica da ieri, quindi sono già due giorni, sono le frazioni di Rofelle, la frazioncina di San Patrignano, dove abito io, e Caraffello, che è l'isola amministrativa, quella che è l'enclave. Nel pomeriggio il problema corrente si risolve solo per la frazione di San Patrignano, nel capoluogo a Badia non funziona la telefonia fissa e la team, e la corrente manca ancora nella frazione di Rofelle e Caraffello è il terzo giorno consecutivo. Come sono state queste ore? È abbastanza difficoltose, soprattutto per le persone anziane che si trovano isolate, senza luce, senza riscaldamento, quindi è stato problematico quello, però ci stiamo dando da fare per aiutarli il più possibile. Sì, in un giorno siamo riusciti a sistemare un po' le cose in modo tale che si possa muovere. Servirebbe nelle nostre zone marginali e periferiche una revisione completa di quelle che sono le infrastrutture, perché appunto c'era un punto ghiacciato e di difficile risoluzione legato anche alla vetustà della linea. Quindi sicuramente bisogna anche domandarsi, queste linee elettriche, queste linee telefoniche fisse, le linee nelle zone marginali come le nostre, hanno bisogno o no di una revisione generale? La risposta è hanno bisogno, perché dopo in situazioni come queste non si riesce a fronteggiare il problema. Però devo dare atto sia alla team che a quelli di Enel, che le squadre si sono attivate ieri con tante persone, con tanti mezzi. A questo punto noi avevamo delle frazioni isolate, sono state liberate, quindi le strade sono tutte aperte. A questo punto vanno allargate, ci servirebbe una turbina, perché noi siamo dotati soltanto di spatti neve. E quindi sia per allargare i parcheggi nel capoluogo, sia per allargare le strade comunali, non sarebbe male avere una turbina. So che la provincia di Arezzo in dotazione ce l'ha. In ogni caso, superata questa fase critica, ora cercheremo anche di migliorare l'apertura delle strade, nel senso la larghezza, per poter far scambiare due macchine. Però la criticità vera è la corrente elettrica. Il soccorso alpino e espeleologico della Toscana è intervenuto questa notte per il recupero di due giovani con l'auto bloccata a causa della neve. L'attivazione da parte della 118 è arrivata al tecnico di centrale operativa del soccorso alpino a mezzanotte e mezzo. I due giovani si stavano reccando in Emilia Romagna, quando a causa della chiusura di alcune strade hanno preso la strada per chiusi della Verna, ma le catene non hanno resistito e sono rimasti bloccati nella neve. La squadra della stazione Foreste Casentinesi, le raggiunti attorno alle due, fortunatamente in Columi, hanno sbloccato la macchina e l'hanno fatta ripartire. Poi la macchina della squadra di soccorso li ha accompagnati fino alla località Laveccia. E dopo la neve adesso a preoccupare anche il ghiaccio. A fare il punto è il presidente della provincia Alessandro Polcri che raccomanda la massima prudenza. La situazione è in netto miglioramento ma adesso il pericolo appunto è il ghiaccio. Stiamo già intervenendo a fa sapere con lo spargi sale sia la sera che la mattina oppure avendo molte macchine operatrici. È difficile in poco tempo poter essere presenti nei 1300 chilometri di strade a gestione provincia. E potrebbe essere stato il ghiaccio anche la causa dei due incidenti che si sono verificati questa mattina in una manciata di minuti nel tratto aretino della E78 nella zona di Montagnano a Monte San Savino in direzione Arezzo. Nel primo incidente il più grave due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Un uomo di 46 anni è uscito dalla sua vettura a seguito dell'urto ed è stato investito da un veicolo in transito. È gravissimo e per i soccorsi è intervenuta l'ambulanza ma anche il soccorso Pegaso che ha trasferito l'uomo in codice rosso appunto con l'elicottero. Poco dopo i mezzi del 118 sono intervenuti sulla scena di un altro tamponamento per soccorre una donna sempre di 46 anni trasportata invece al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Il tratto a causa degli incidenti è stato anche temporaneamente chiuso. E adesso torniamo a parlare degli scontri in A1. Domani si terrà l'udienza per direttissima con l'accusa di rissa aggravata per uno degli ultra finiti in manette. Sarà processato con rito direttissimo il 25 gennaio. Il tifoso della Roma arrestato per rissa aggravata dopo gli scontri in A1 con i tifosi partenopei. Martino Di Tosto, cuoco di 43 anni, romano, è ritenuto da IPM uno degli ideatori delle modalità con cui i tifosi giallorossi si sono trovati e scontrati con quelli del Napoli all'altezza dell'autogrill di Badia Alpino Est lo scorso 8 gennaio. Arriviamo che li trovamo, pare avesse scritto poco prima degli scontri, come risulta agli inquirenti. Nelle chat analizzate si parla dell'intenzione di andare nei pressi dell'autogrill di Badia Alpino per incontrare gli ultra napoletani. Il GIP aveva convalidato l'arresto lo scorso 15 gennaio, disponendo poi la misura dell'obbligo di firma e di dimora nel comune di residenza. Quello del tifoso romanista, che fece accesso al pronto soccorso di Arezzo per ferite alle gambe, è stato l'unico arresto convalidato rispetto agli altri tifosi romanisti e uno napoletano che vennero arrestati nelle ore successive e per i quali l'arresto in flagranza di ferita non è stato convalidato. Sono nove gli indagati da parte della procura di Arezzo sulla giornata di guerriglia. A loro viene contestato, tra gli altri, anche il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti. Per loro poi era già scattato anche il DASPO, il divieto di accedere alle manifestazioni sportive e due mesi senza trasferte. La vicenda di Emanuele Andreini, il 58enne, che lo scorso ottobre uccise la madre soffocandola con una cuscina all'interno della sua abitazione di Calbenzano di Subbiano, andrà in corte d'assise. L'udienza è stata fissata per il prossimo 4 marzo, corrito immediato. L'operaio, infatti, non potrà essere condannato in quanto incapace di intendere e volere al momento del fatto, come hanno riconosciuto gli specialisti che lo hanno visitato, sia quelli dell'accusa che quelli della difesa. Sono concordi. Si dovrà dunque stabilire solamente la misura da adottare nei confronti del 58enne. E ancora, croadaca giudiziaria, nessuna colpevole per le morti di Covid nell'RSA. La Procura di Arezzo, infatti, ha archiviato l'inchiesta a volta ad accertare se ci fossero responsabilità sui numeroti decessi avvenuti nella primavera 2020 durante la prima ondata della pandemia. Secondo la PM, Chiara Pistolesi non ci sarebbero figure alle quali possa essere contestato l'omicidio colposo plurimo, le lesioni aggravate e relazioni all'RSA di Bucine, Montevarchi e Prato Vecchio. Familiari e associazioni, in seguito ai decessi, avevano presentato un esposto in Procura 20 in tutte le persone su cui decessi gli inquirenti hanno indagato in questi mesi. Per quanto riguarda invece l'inchiesta Cheu, a seguito della chiusura da parte della Procura distrettuale antimafia di Firenze delle indagini relative allo smaltimento illecito di fanghi prodotti dalla Concia delle Pelli, che è riguardato anche il Valdarno Aretino, la CGL Toscana, nell'udienza preliminare del prossimo 4 aprile, intende avanzare la richiesta di costituirsi parte civile nel processo. Voltiamo pagina, dalle 19 di oggi prende avvio lo sciopero dei benzinai, i distributori resteranno chiusi per 48 ore. Vediamo i motivi della protesta. Questi sono sciopero, questi ti fanno vedere come sono retributi i 20 euro. Scatta la grande serrata dei benzinai in tutta Italia, 48 ore di sciopero nelle quali si fermeranno anche i self-service. Terzo benzinaio che faccio perché gli altri due hanno finito la benzina. Anche ad Arezzo, come nel resto della Toscana, i benzinai sono pronti ad incrociare le braccia. Da oggi alle 19 sulle rete ordinarie, dalle 22 sulle autostrade, le pompe di benzina e gasolio resteranno chiuse per due giorni. È stato inevitabile perché abbiamo fatto dei tavoli di incontro con il governo, il quale aveva promesso di scusarsi per quelle diffamazioni che aveva fatto sul nostro conto, importante a mio avviso, di scaricare a noi la responsabilità di un aumento dei carburanti che è veramente assurdo perché, come avete visto dal foglio E, la nostra retribuzione è veramente misera. Restano così distanti le posizioni tra governo e organizzazioni di categoria sul decreto trasparenza sui prezzi dopo i rincari scattati ad inizio anno. Ma decreto trasparenza di che? Cioè loro il decreto dicono che noi bisogna prendere e mettere un'ulteriore cartellonistica dove con un doppio prezzo facciamo poi anche vedere il prezzo medio nazionale. Ma di che parliamo? Il rialzo della benzina era infatti partito a capodanno con la fine dello sconto sulle accise introdotto a marzo dell'anno scorso dal governo Draghi. Il costo era così schizzato attorno ai 2 euro. Chiediamo che lo Stato rintervenga sulle accise e faccia un passo indietro e riporti il prezzo a quello che era prima della fine dell'anno. Quindi noi non c'entriamo niente su questa situazione qua. Inevitabili le code prima della serrata nelle prossime ore. Infatti fare benzina sarà difficile ma comunque non impossibile. Ci saranno degli impianti aperti per garantire comunque un servizio. Arezzo, regina dei rincari sulla spesa alimentare con i residenti della provincia che nella 2022 hanno speso per mettere a colazione, pranzo e cena 528 euro in più. Nel mezzo tutto il ventaglio variabile del rincarico, la corsa dei prezzi innescata dall'inflazione ed esplorata territorio per territorio da col diretti toscana sulla base dei dati di Stata relativi all'intero 2022. La forbice dei maggiori costi sostenuti dai toscani non è esigua visto che fra la prima e l'ultima provincia, Arezzo e Pisa appunto, c'è un divario di 141 euro. La spesa media invece regionale è di 463 euro in più per l'acquisto di prodotti alimentari e bevande analcoliche. Ovviamente si parla di un esborso medio annuale. E adesso torniamo a parlare dei lupi che preoccupano pochi chilometri dalla città. È nato un comitato. Ancora una segnalazione di pecore uccise e di lupi che avrebbero banchettato nella zona di indicatore ad un chilometro dal centro abitato. È il gruppo Facebook problema lupo a raccoglierla con tanto di foto e adesso è nato anche un comitato emergenza lupo Arezzo. Il comitato è sorto dopo le innumerevoli segnalazioni soprattutto dalle zone di Rigutino, Policiano, Frassinetto finite anche sul tavolo del prefetto di Arezzo e adesso è stata affissata un'assemblea pubblica. È in calendario il prossimo 27 gennaio alle 21 presso la sala parrocchiale della chiesa dei Santi Quirico e Giulitta a Rigutino. Il comitato, si legge nel comunicato ufficiale, intende promuovere azioni legali, stanze, richieste, esposti e quant'altro venga ritenuto utile per le proprie finalità. I casi di predazione e danni di animali domestici o da allevamento sono diventati, scrivono, una preoccupazione quotidiana. Di poche ore fa un altro video che sarebbe infatti stato raccolto da un automobilista nella strada di Ristradelle, Fra Policiano e Frassinetto. In molti direbbero è il normale corso della natura. Il fenomeno è comunque attenzionato dai carabinieri forestali, interessati dalla prefettura ad effettuare un monitoraggio puntuale. Da alcuni anni, il 27 gennaio, il giorno della memoria, sono molti cittadini e aretini che depongono un fiore al cimitero degli ebrei presso il parco Ducci. Anche quest'anno, la stella e l'olivo, collocati nel luogo dove si trovava il cimitero degli ebrei di Arezzo, saranno adornati di fiori. Si tratta dell'iniziativa Un Fiore per la Memoria, nata spontaneamente per manifestare il proprio sentimento contro l'indifferenza per non dimenticare l'olocausto. La sezione Arettina del Lampi, la CGL, invece, celebreranno la giornata della memoria presso la sala Bruno Buozzi, in via Monte Cervino. Nel corso dell'iniziativa, il documentarista Mario Spiganti presenterà il frutto di un suo interessante lavoro di ricerca che farà toccare con mano la crudeltà commessa dal regime fascista e danni dagli italiani di religione ebraica durante la Seconda Guerra Mondiale. E oggi, invece, la ricorrenza di San Francesco di Sale, patrono dei giornalisti, e il Vescovo di Arezzo Cortone Sansepolcro ha così incontrato la stampa locale. Il messaggio è anzitutto un messaggio di gratitudine per il servizio che la stampa fa nel nostro territorio. Lo dico non solo per la stampa in genere, ma per la nostra stampa. E quindi l'incontro di oggi per me è occasione per dire grazie. L'ho detto anche per come mi ha accompagnato nell'inserirmi nella nuova diocesi. Il Vescovo della diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro, Andrea Migliavacca, ha incontrato la stampa locale in occasione della ricorrenza di San Francesco di Sale, patrono dei giornalisti. La stampa ha un grande ruolo nel servizio della comunicazione, dell'annuncio, nella ricerca e nella promozione della verità, nella libertà e nella condivisione di storie, storie di vita. Perché a volte la cronaca racconta i grandi eventi, ma ci sono storie di vita quotidiane che non possiamo perdere. E la stampa lo può fare. E poi le nuove emergenze da affrontare. A volte semplicemente prospettare soluzioni non risolve. E invece camminare insieme, condividere, può aiutare a sostenere un cammino che oggi vede molteplici difficoltà. Partirei dalle difficoltà di carattere economico, che non sono solo macroeconomiche, ma è la vita delle famiglie. È l'ampliarsi di realtà di povertà diffuse anche nel nostro territorio. C'è l'emergenza legata all'ambiente, che chiede una vera conversione. Tra un po' inizieremo la quaresima. Ci sono tanti ambiti di conversione. C'è anche la conversione ecologica e di impegno nel costruire comunità energetiche e nel rispetto dell'ambiente. C'è l'emergenza oggi della costruzione della pace. L'incontro è stata anche l'occasione per presentare le celebrazioni della Madonna del Conforto. Quest'anno la messa delle 10.30 sarà preseduta dal cardinale di Siena e Montepulciano, il cardinale Paolo Loiudice. Sono molto contento che venga e lo ringrazio. Ci aiuterà a rendere bella nella preghiera solenne la nostra festa. E poi per me vivrò con un po' di curiosità perché è la prima festa che vivo nella sua pienezza dalla novena fino alla celebrazione del 15 febbraio. E quindi sarò, lo dico così, vescovo e pellegrino. Vescovo e fedele in cammino per mettermi sotto lo sguardo di Maria. Passiamo alla pagina della cultura. Prosegue la stagione teatrale alla Petrarca. In scena Elena Sofia Ricci. Ho la sensazione che nel rapporto tra noi ci sia qualcosa che non torna. Beh, tu hai avuto la tua vita. Io ho avuto la mia. Cosa vuoi? Che vada tutto a posto così? In un attimo. La diva Alexandra del Lago interpretata da Elena Sofia Ricci nell'intreccio con il gigolo Chance Wayne, Gabriele Nagni, al teatro Petrarca. In città infatti è arrivata la dolce alla della giovinezza di Tennis Williams, uno spettacolo di drammaturgia americana degli anni 50. Tutti mi dicevano che ero ridicolo, a pensare di non poter tornare sullo schermo come donna di mezza età. Mi dicevano che ero un'attrice, non una star e basta. Che la mia carriera non dipendeva dalla mia giovinezza. Eh ma, ma in fondo all'anima io lo sapevo, che il mito di Alexandra del Lago è inseparabile dalla sua giovinezza. Elena Sofia Ricci e Alexandra del Lago, star del cinema in declino, non più giovanissima, alcolizzata e depressa, in fuga da quello che crede un insuccesso del suo ultimo film, cerca un remedio alla solitudine nelle braccia di un gigolo giovane e bello, un attore fallito in cerca di rilancio, ma destinato ad una triste fine una volta che ha perduto il suo unico bene, la gioventù. Tutto quello per cui mi vedi si perde o ti abbandona e allora muori o trovi qualcosa di più, questa. Tenence William, da grande drammaturco, è in grado di stupire, sovvertendo genialmente il destino della donna. Vieni, vieni, a farmi credere che siamo due amanti giovani, senza vergogna. Passiamo alla pagina dello sport, titoli regionali, medaglie e qualificazioni per i campionati italiani e record personali per l'Alga Atletica Arezzo. La stagione invernale è entrata nel vivo e la società Aretina ha vissuto un fine settimana particolarmente ricco di gare tra Ancona, Carrare, Firenze e Lucca. Il piazzamento più rilevante è arrivato dal meeting nazionale di Ancona, dove Nicola Sgavagni è sceso in pedana nel salto in lungo tra gli allievi e ha siglato il suo record personale 7,06 metri centrando il secondo posto e ottenendo l'attuale seconda miglior prestazione italiana nella categoria 2. I titoli toscani sono stati invece festeggiati da Federico Rubecchini nel salto in alto e da Lorenza De Silva nei 200 piani. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. Grazie.